Cosa siamo venuti a chiedere? Che le cose migliorino un po', vista che la situazione è diventata complicata. La prima cosa che si chiede è la salute e quando c'è salute c'è tutto, dopo il resto viene di conseguenza e dipende molto dalla nostra buona volontà di fare le cose. Per me ho la mamma che ci sta lasciando in questi giorni, sicuro, e così solo perché non soffra. Prima di tutto la pace, perché in questo momento non mi sento tranquilla e serena nella situazione che c'è in questo periodo. Per me il mio pensiero è questo e la Madonna del Montaberico, che ci dia una mano. Sicuramente bisogna chiedere che le cose vadano meglio, anche a livello sociale c'è molto bisogno di aiuto. Sicuramente che sia un anno migliore, che sia un anno con più pace. E con più serenità, positività. La pace innanzitutto per tutti e poi anche il lavoro. Sicuramente il lavoro per tutti. Occorrono tante grazie quest'anno, perché la situazione è difficile, penso per tutti. Sa cosa ho notato? Non ho mai visto tanta gente normale tendere la mano. Eravamo abituato gli anni scorsi ai classici, chiamiamoli barboni, o comunque gente diversa che noti subito. Quest'anno mi ha colpito almeno una decina di persone, vestite perfettamente normali, che chiedevano l'elemosina. Mi ha dato da pensare. Questo è il messaggio che ricevo dalla giornata di oggi. Grazie. 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 Grazie.